Uno degli incarichi che può ricevere un sindaco, probabilmente non per meriti ma anche per un'esperienza che ormai ha maturato nella pubblica amministrazione a un livello locale, quello del comune di Castiglione Ferentino, dove insomma ho maturato complessivamente, non sembra, 26 anni di esperienza. Quindi forse è un segnale di attenzione che arriva da un partito che tra l'altro è al governo anche nella valorizzazione delle esperienze del territorio e questo penso che sia sostanzialmente la cosa che alla fine trovo anche normale. È successo nel comune di Arezzo ma insomma poi ci sono anche i fatti di Firenze, che sta accadendo ai nostri giovani? Ma sono episodi deplorevoli che non possono avere una banale connotazione politica da una parte o dall'altra, ci deve essere unanime la condanna per gesti che poi talvolta si notano e vengono evidenziati, tante altre volte invece sono o non conosciuti o oscurati. I disagi del mondo giovanile sono notevoli, purtroppo ci accontentavamo quando questi fenomeni, tra virgolette, accontentavamo quando questi fenomeni li vedevamo nei grandi centri o nelle città metropolitane, oggi questo fenomeno tristemente lo vediamo a tutte le latitudini, anche nei paesi più piccoli e vorrei dire anche nei paesi più sani. Quindi ci vuole particolare attenzione perché la vita dello studente è durante il normale orario ma poi lo studente deve essere un esempio, deve essere anche seguito, deve essere monitorato anche all'esterno e qui viene fuori il ruolo fondamentale delle famiglie. E quindi si apre un altro discorso parecchio lungo.